franco dillo franco viene da los angeles domenica è venuto è andato a fare gli opera prodigio se faccio questi perché l'altra volta erano anche 28 poi 24 con i medici senza frontiera quanti sono oggi 27 per il momento ma quanto ci abbiamo se vuoi me ci metto pure io dai 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 Occhio occhio dai lui Bravo 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 Ma qualcuno lo tocco Franco se avevi il culo elettrico passato Perché fai seri di me Sì No Non vedo Ho spiegato qualcuno che mi ha fermato